Musica Martedì 7 novembre, buongiorno dalla redazione di Telemolise. In apertura parliamo dei 150 bambini molisani che sono partiti dalla nostra regione ieri per andare ad incontrare Papa Francesco. Il pontefice infatti ha ricevuto in Vaticano oltre 7 mila bambini provenienti da 84 paesi, un incontro durante il quale è stata ribadita la necessità di lavorare tutti insieme per la pace e per un mondo migliore. Ce ne parla Anna Maria Di Matteo. Sognare è bello, quando uno sogna qualcosa c'è qualcosa di vita dentro, lo diciamo insieme, sognare è bello tutti insieme. Grazie. 18 treni e 20 autobus straordinari per l'evento. I bambini incontrano il Papa che si è svolto a Roma in Vaticano nell'aula Paolo VI. Oltre 7 mila piccoli, tutti con in testo un cappellino bianco, provenienti da 84 paesi, sono stati al centro dell'evento. Per l'occasione è stata pubblicata l'enciclica dei bambini, libro scritto a quattro mani da padre Francesco Fortunato e Aldo Cagnoli con una prefazione del pontefice che ha scritto Cari bambini, vi abbraccio e sappiate che il vostro Papa e nonno farà di tutto perché possiate vivere in un mondo più bello e buono. Una giornata che è stata un momento speciale in cui tutti i piccoli sono stati i protagonisti di un appuntamento dedicato esclusivamente a loro per parlare di speranza, di pace, per costruire insieme un futuro migliore. Dal Molise sono partiti in 150 a bordo di tre autobus di Bus Italia, uno partito da Campobasso, uno dai Serni, ad un terzo da Santa Croce di Magliano. In un primo momento si era temuto che l'incontro con il pontefice potesse saltare a causa delle sue condizioni cagionevoli di salute, ma l'allarme è poi rientrato. Nessun problema di salute, ha spiegato il portavoce Vaticano Matteo Bruni, Papa Francesco, ha un po' di raffreddore e stanchezza per una lunga giornata di udienze, ma non ha voluto rinunciare all'incontro, infatti il pontefice ha regolarmente ricevuto i 7.000 bambini intrattenendosi lungamente con loro. Tanti bambini stanno soffrendo per i disastri climatici, per la guerra e la povertà, non dimentichiamoli, ha detto loro Francesco. C'è gente cattiva che fa del male, fa la guerra, distrugge. Perché uccidono i bambini nella guerra? Questa è una crudeltà, è brutto, è una ingiustizia. Tra i bambini che hanno posto una domanda al Papa, è intervenuta anche una giovanissima italiana di origini palestinesi che ha domandato a Bergoglio cosa accade se scoppia la terza guerra mondiale. Se scoppia la guerra? La guerra è scoppiata già, cari. È scoppiata in tutto il mondo, non solo in Palestina. Noi stiamo vivendo una guerra brutta e la guerra ci toglie la pace e la vita. Dobbiamo lavorare insieme per la pace. È stata l'esortazione del Papa. Adesso torniamo ad occuparci della situazione delle carceri e della realtà che vivono i detenuti e gli agenti della polizia penitenziaria. Lo facciamo con le parole di Don Antonio Di Lalla, ex cappellano del carcere di Larino. Ce ne parla Dalila Catenaro. Una realtà, quella del carcere, difficile e senza dubbio complicata sotto tanti punti di vista. Complicata per chi la vive e per chi vi opera ogni giorno. Ne abbiamo parlato con Don Antonio Di Lalla, ex cappellano del carcere di Larino, che ha raccolto le testimonianze, i dolori e le difficoltà. La privazione di libertà è sempre un'angoscia e un dolore profondo. Se questa privazione di libertà è funzionale al recupero è ancora accettabile. Se è solamente punitiva diventa estremamente difficoltosa. E in questa fase a Larino ho paura che sia solo punitiva perché sono state sospese tutte quante le attività e il clima che si respira non è dei migliori. Le situazioni sono strettamente collegate. Più aumenta la repressione, più occorre la vigilanza e più la vigilanza non basta mai e scoppiano le tensioni. E quindi chiaramente solidarizzo con la polizia penitenziale che rivendica la necessità di un maggior numero di persone. Ma se noi costruiamo un carcere diverso, probabilmente tante tensioni si allenterebbero. Ma anche il concetto di rieducazione della pena, ossia l'obiettivo fondamentale di tutti i detenuti per il rinserimento nella società. Intanto stimarli come persone e non ritenerli come colpevoli e basta, come delinquenti. Quando c'è la stima e poi si trovano anche attività lavorative, ecco che la persona si aiuta a uscire dalla sua crisi, dal suo errore. In pratica dobbiamo ribadirlo sempre, la persona è più grande di qualunque errore, fosse anche tragico. Bene, è tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale. Adesso come sempre c'è la rassegna stampa. Partiamo come sempre dai siti web, questo è il nostro giornale del Molise, in apertura i bambini provenienti da tutto il mondo che hanno incontrato il Papa. C'è anche la foto tra loro 150 molisani, accanto all'incidente di ieri mattina che ha mandato il tilt alla bifermina a un frontale, due persone in ospedale, traffico bloccato con lunghe code. Dal giornale del Molise andiamo sul quotidiano, qui ci sono un po' le ripercussioni del voto alla provincia di Campobasso. Sapete, ha vinto il candidato sostenuto dal centrosinistra, la provinciale Civetta, che era il candidato del centrodestra, deluso dal centrodestra. Roberti commenta, il presidente della regione, hanno pesato le assenze. Vediamo anche il primo numero che torna sulla scuola crollata, la palestra crollata a Casa Calenda. C'è la foto della sindaca di Casa Calenda, l'ha letto in procura, palestra crollata, la sindaca presenta l'esposto. Solo per un caso, non è stata luogo di una strage. Ha confermato dunque di aver presentato questo esposto in procura, come aveva detto già nelle ore successive a quell'incidente della scorsa settimana. Questi sono i giornali web, le testate online. Adesso andiamo sulla carta stampata con primo piano Molise. Anche su primo piano, in apertura, ci sono le ripercussioni legate al voto per la provincia di Campobasso. Parte la resa dei conti nel centrodestra. Roberti parla di episodio, nessun avvertimento, il voto ponderato è cosa diversa dai voti veri. Spunta un audio sul candidato presidente che dice che è Civetta, lo hanno deciso a Roma, Taiani e Lotito. Intanto Palazzo Daimmo accelera sul bilancio, la commissione approva e manda in consiglio tutti gli atti fino al 2022. Intanto qui sotto c'è la presa di posizione dei 5 Stelle. Sapete che col voto ponderato i centri più grandi hanno un peso maggiore. È accaduto così che Campobasso, dove c'è una maggioranza monocolore e 5 Stelle, ha pesato in maniera importante in questo risultato. E quindi 5 Stelle si sono intestati il verdetto, alzano il tiro, noi determinanti, si apre la partita per le comunali. La foto grande a centropagina è il ritorno sul crollo della palestra di Casacalenda. Palestra sventrata dal vento, l'allitto strage evitata dal fato. La sindaca in procura, una struttura realizzata per i bambini, non doveva cedere alla forza delle raffiche. Andremo fino in fondo. Le altre notizie su primo piano da Isegni, a caso Falcione, il consigliere comunale non serve la presa d'atto, può votare per via aberta. Ci sono le elezioni provinciali anche a Isegni tra qualche giorno. A Campobasso autotravolge monopattino in centro suolo spavento, a cimitero di Termoli, revoca del project, rete della sinistra, dice lo avevamo detto. Sempre a Termoli, arnesi da scasso, nel cofano due foggiani nei guai. A Campobasso invece c'è stato un blitz antidroga, da Campobasso a Sansevero per comprare cocaina. La mobile segue e arresta due giovani di 18 e 26 anni. La notizia nella parte bassa. Vi segnalo anche lo sport sotto la testata. Il Campobasso, i lupi, quarta vittoria in cinque partite. La capolista Samba è di nuovo a tre lunghezze. Sul fronte Termoli il patron Montaquila si dimette per le dure critiche. Carnevale, nuovo allenatore. Poi i campionati studenteschi premiati a Mario Pagano, le scuole più sportive del Molise. Questa era la prima pagina di Primo Piano Molise. Adesso andiamo ai giornali nazionali. Si parla ancora della guerra in Medio Oriente, ma anche dell'accordo tra Italia e Albania sul tema dei migranti. Questi sono i temi che dominano. Partiamo dal Corriere della Sera. Il titolo al centro pagina è Israele, Gaza City isolata. Hamas, 10.000 morti. Il Pentagono dice che sono migliaia. Gli Stati Uniti avvisano l'Iran, inviato un sottomarino nucleare. Intensificato l'attacco a un mese dall'attacco terrorista. Nuovo scontro con l'ONU. Questa intesa con l'Albania, della quale accennavamo poco fa, è sotto la testata. In Albania 36.000 migranti all'anno dall'Italia. Accordo tra Milano, Meloni e Tirana. Il PD commenta. È un gesto pericoloso. Questo era il Corriere della Sera. Andiamo a Repubblica. Su Repubblica il titolo principale è proprio sull'intesa Italia-Albania. Repubblica fa il titolo Soccorso Albanese. Meloni sigla un patto per trasferire in Albania. 39.000 persone salvate in mare. Tirana nessuna contropartita. Faro della UE, così va in frantumi il diritto di asilo. Le opposizioni sui nuovi CPR italiani sarà la nostra Guantanamo. Intanto sul PNRR i sindaci vanno contro la scure del governo. Il Medio Oriente a centropagina. Un mese di guerra tra Massa e Israele. Ci sono le foto del conflitto. Poi l'altro tema che c'è su molti giornali è l'ennesimo addio alla RAI. Ieri quello di Corrado Augas. Dilettantismo, dice lui, annunciando il passaggio alla 7. Anche di Bella pronto a seguire. C'è proprio un intervento di Corrado Augas. Andiamo a vedere anche le altre prime pagine. Cominciamo con il messaggero di Roma. Migranti centri in Albania. L'intervista. Giorgia Meloni, due basi italiane in territorio albanese per gestire gli arrivi. L'accordo consentirà di limitare gli ingressi illegali e accogliere chi ha diritto alla protezione. Qui l'argomento viene approfondito con le parole della Premier. Sotto un mese di orrore. Il 7 ottobre l'attacco a Israele. Poi Gaza e la strage di civili. Sotto la testata da segnalare una notizia che riguarda la televisione ma soprattutto lo sport. Fiorello debutta con la pace in diretta tra Totti e Spalletti. Accaduto ieri mattina durante il ritorno in tv di Fiorelli. Hanno fatto pace Francesco Totti e il suo ex allenatore, oggi CT della Nazionale, Spalletti. Dal messaggero andiamo su Avvenire, il quotidiano dei Vescovi. E qui il titolo è sul mese trascorso dall'inizio di questa guerra in Medio Oriente. Strage su strage. Un mese fa il progrom di Hamas. 1.400 ebrei seviziati e uccisi. Israele in guerra. La denuncia a Gaza superati i 10.000 morti. L'ONU dice che è un cimitero di bambini. A proposito di bambini, il Papa affida la pace ai bambini. C'è la notizia che abbiamo visto anche sulle testate locali. In 7.000 in Vaticano da 84 paesi con domande semplici e scomode hanno incontrato questi bambini Papa Francesco. Questo era l'Avvenire sul Fatto Quotidiano. Anche qui l'apertura è sul Medio Oriente. Gaza crimini come in Ucraina ma nessuno raccoglie le prove. C'è un'intervista a Silvana Arbia, ex cancelliere della Corte dell'AIA. E c'è un'altra foto qui del conflitto in Medio Oriente. Questo era il Fatto Quotidiano. Andiamo avanti con la prima pagina di Libero. Che ha un'intervista al Premier albanese su questa intesa con l'Italia. Prendo i vostri migranti e il virgolettato Meloni. Tirana costruirà due strutture per accogliere gli stranieri diretti in Italia. Edi Rama, che è appunto il Premier albanese. Non lo facciamo per interesse ma so che ci aiuterete a entrare nell'Unione Europea. Sono le parole del Premier di Tirana. Andiamo sul Quotidiano della sinistra. Il manifesto che su questo fondo grigio ci ricorda che ci sono 10.000 morti in un mese. Ad un mese dall'attacco terroristico a Israele con 200 ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Sono più di 10.000 le vittime palestinesi. La metà sono minorenni. Sotto la testata dell'intesa Italia-Albania, Meloni rinchiude i migranti in Albania. Patto con il Premier Rama per costruire centri offshore. L'Unione Europea avverte ci vuole una legge. Questo era il manifesto. Vediamo anche il Quotidiano della destra. il Secolo d'Italia parla di storico accordo migranti, storico accordo tra Italia e Albania. C'è questa foto dei due premi, dei premi dell'albanese e quello d'italiano a Palazzo Chigi per siglare questa intesa. Abbiamo visto anche il Secolo d'Italia. Diamo uno sguardo anche allo sport con la Gazzetta, la Gazzetta dello Sport. L'apertura a titolo principale sulla Champions. Milan ferma il Re, vietato a fallire col PSG. Pioli prepara il piano anti-Bappé. Qui ci può essere la svolta. Cardinale ingaggia Ibra. Sotto la testata, scudetto all'italiana, Inter e Juventus. Sempre meno straniere da Barella. Di Marco da Chiesa a Miretti. Il derby tricolore è una questione nazionale, così scrive la Gazzetta sotto la testata. Adesso invece andiamo alla stampa abruzzese. Lo facciamo con il centro. Lo vedete qui le varie edizioni, le varie province. Cominciamo con l'edizione regionale. Il titolo di apertura è Aperture serali. Il commercio dice no. A Pescara le associazioni bocciano la proposta di allungare l'orario dei negozi. Al centro pagina anche qui la grande foto di Papa Francesco e l'abbraccio ai bambini abruzzesi. Poi qui accanto c'è un'inchiesta anche in Olanda sull'azienda dell'esplosione, quella nella quale morì un operaio e è accaduto a Teramo. Una ditta di Teramo. Sotto la testata, ottobre, caldo record e danni alla ricoltura. I consigli dell'esperto. C'è questo approfondimento sul tema del clima. Poi ancora lo sport con questa foto di Zeman. Zeman pensa al turnover in Coppa con il Pineto. Giovedì in campo ovviamente si parla del Pescara. Nella parte bassa notizie di cronaca. Auto bruciate. Caccia la verità delle telecamere. Accade a spoltore. E poi sequestra la compagna dentro casa. Chieti, una parrucchiera dai carabinieri. Vivo nella paura e il mio ex mi perseguita. E poi c'è questa iniziativa a Pescara. 1000 euro a chi adotta un cane. Lo sconto su cani di inchiusura. Ora si aprono le domande. C'è questo piano del comune dopo la protesta. Restiamo sul centro ma per vedere le altre edizioni. Le edizioni delle varie province. Qui siamo a Teramo. Sisma. 300 milioni per le imprese. Patto commissario gruppo intesa per sbloccare i bonus incagliati. Quindi c'è un'apertura diversa. Dalla provincia di Teramo a quella di Chieti. Per vedere un'altra edizione locale del centro. Il titolo qui è Ecco 38 cantieri per cambiare Chieti. Scuole, frane, nuovi parcheggi. Sia il piano triennale delle opere pubbliche. L'annuncio dell'amministrazione comunale di Chieti. Chiudiamo con l'edizione dell'Aquila. Il titolo è sul terremoto. Aiuti, sisma, pugno duro del comune. Contributi, cas non dovuti. La pioggia di ricorsi finisce in tribunale. Quindi c'è questa vicenda in apertura sull'edizione dell'Aquila del centro. Bene, con il centro si chiude come sempre la nostra rassegna stampa. Io vi auguro una buona giornata. Ci rivediamo come sempre a TG delle 14. A più tardi.